Fere, stai ferma così, eh? Ok? Cosa vuoi fare, Steph? Cosa vuoi fare? Ciao, Fere! Ciao, Fere! No, smetti di vattene! Vattene! Ti devo pestare, ti devo pestare, mi devo vendicare! Steph, stanzi incredibili! Vieni qua, non scappare dalle montagne! Ciao, Fere, a dopo! E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! Io sono Sepa, che su Gita 5! E torniamo su GTA 5 con un nuovo episodio del Versus, dato che avete adorato tantissimo il primo episodio di questo format, e torniamo qui oggi, però questa volta metteremo a confronto due tipi di case. Esattamente, abbiamo pensato, invece che fare due veicoli, questa volta proviamo con due case. Per essere precisi, proviamo la sfida che per me è proprio alla base di tutte le sfide dove ci sono delle case. Villa contro appartamento. Esatto. Quindi metteremo alla prova questa villa qui, che è la più cara del gioco, che costa 800.000 dollari, contro uno degli appartamenti di quel palazzo lì, che vediamo già da qua, super mega alto e strabello. Quello enorme, il più alto, credo che sia, quindi. Allora, ovviamente abbiamo dei parametri diversi, dei criteri diversi da valutare, perché delle case rispetto ai veicoli sono diversi, quindi abbiamo preparato dei criteri diversi. Abbiamo il costo, come la scorsa volta, perché dobbiamo valutare quanto costano. Abbiamo la comodità, perché una casa deve essere comoda, ma è una valutazione diversa da quella dei veicoli e dopo ti spiego perché. Poi abbiamo l'arredamento degli interni e gli esterni, quindi la bellezza della casa da fuori, che è molto importante, la vista e la grandezza della casa. Ok. Perché più stanze ha, teoricamente, meglio è. Beh, certo, certo. Cosa è totalmente diversa da valutare, ma direi di entrare, perché c'è anche fuori buio, non mi piace fare, quindi entriamo in casa e iniziamo a goderci questa super villa. Eccoci, è subito fantastica, però partiamo. Dobbiamo stare sempre molto fare. Rimani cinica, capito? Sì, sì, sicuramente. Sì, sì, sicuramente. Una casetta così, ci sono tutti. Ma che scherzi, cioè esco di casa, me la posso permettere anch'io. Allora, partiamo dal criterio numero uno, ovvero l'arredamento degli interni. Quindi dobbiamo valutare come è redata tutta la casa e decidere che voto darli da uno a dieci. Allora, io guarderei un pochettino l'ingresso molto classico. Sto valutando anche se gli ingredienti della cucina che tu hai messo qua sono buoni. Sembra giusto, Stefano? Ok, allora... Comunque, bella cucina, guarda, molto moderna, molto... Allora, sì, infatti stavo guardando due forni, questo qua credo che sia il frigo gigante, bella spaziosa, c'è un sacco di spazio. È bella, è bella. Ed è davvero carina, soprattutto è aperta, quindi vedete, abbiamo il tavolo. Il tavolo qua, strabello, con pure un focherello e dopodiché il super salotto. Molto minimale, non c'è troppa roba in giro, però è bello, spazioso e piacevole. L'arredamento moderno non troppo eccessivo, quindi lo apprezzo tanto. Guarda qua, scendi le scale, c'è la cascata. Questo è un po' esagerato. No, no, questo non è esagerato, questa è una figata pazzesca. È bello. Non credo che sia economico, però se puoi permettertelo è strabello. No, assolutamente no, però vabbè, ricordiamo che costa quasi comunque un milione. Esatto, costa 800 mila dollari, non è poca roba. Allora, qua c'è una camera da letto con tanto di cabina armadio e bagno privato, che è della serie Cosa vuoi di più dalla vita, con sia doccia sia vasca da bagno. Non posso entrare in bagno con te. Davvero? La doccia è gigante, qua ci posso anche pranzare. Esatto, è enorme. Quindi questa camera da letto è perfetta, cioè non puoi avere di più. Vista spettacolare, camera gigante, bagno privato, cabina armadio, non ci serve altro. No, è perfetta, è perfetta, non ci serve altro. Quindi questa è straperfetta, continuiamo a scendere le scale. Ma quanti piani sono? È una super villa proprio, è una super villa. E qui abbiamo, qua è il posto degli affari, quindi si fai finta che sia uno studio normale. Come se fosse dove noi registriamo i video, per intenderci. E qui si è un sorta di saluttino, è bello, è bello, a me piace molto. Che voto gli dai, Fere? Eh, a me piacciono tanto, piacciono davvero tanto. Ok, ok. Allora, contendo che ci sono pure le cascate, che anche il bagno era davvero bello, io un 9 glielo darei. Anche secondo me non è un perfect perché potrebbe avere quel qualcosa in più, quindi il 10 non me la sento di darglielo, però il 9 secondo me ci sta come voto. Quindi si becca un bel 9. Adesso cosa vogliamo valutare? Allora, io valuterei la vista, il panorama da qui, è bello. Bellissimo però, eh. Però... È bello. Per me non è dei migliori. Davvero? Guarda qua, qui in questa parte a sinistra abbiamo sia un palazzo che ci copre molto, sia un sacco di alberi, non vediamo comunque il mare, e vediamo da qui la parte destra, è bello, una parte della città, ed è bello. Però dai, anche se non vedi il mare, comunque la vista della città, soprattutto la notte, è davvero bella. Guarda, sono indeciso tra il 7 e l'8. Tu per cosa sei di più? Sai che non lo so, mi stai mettendo confusione. Perché in effetti, no, in effetti la vista a sinistra, se tu la guardi, è proprio brutta. È proprio brutta. È proprio divisa a metà questa vista. Per me è un 7, non è un 8. Perché bisogna essere anche cattivi. Comunque l'abbiamo pagata tanto, quindi bisogna essere anche abbastanza cattivi. Perché devi ricordarti che è una casa che costa, quindi deve avere anche le cose belle, giusto? Quindi, vista si è presa un bel 7. Adesso, sulla comodità, tu dirai la comodità dei divani e queste cose. Invece no. Una cosa importante da valutare in una casa è la posizione. Eh, certo. Noi qua siamo in mezzo a una montagna, e la città è un po' distante. C'è il primo market, secondo me. Ce l'hai almeno a mezzo chilometro, se non un chilometro di distanza. Se noi dobbiamo valutare anche quella comodità, oltre a quella della casa, perché a livello di casa gli darei anche un 10, ok? Secondo me perde un po' di voti. E non ti so dire se è un 7 o un 8. Perché io questa strada, questa qua che devi fare tutta sta salita stretta stretta, la odio tantissimo. Anche a me non piace molto. È proprio scomoda per essere scomoda. Però c'è anche da dire che quello dipende molto dal gusto. Perché ci sono persone a cui piace vivere proprio nel centro città, quindi avere tutto a portata di mano. E invece ci sono persone che preferiscono vivere un po' più tranquilli. Devi pensare, se vuoi tornare a casa, il fatto che questa salita è facile che ci sia traffico. Facciamo 7 e mezzo, una via di mezzo. Ok, andiamo sul mezzo, mi piace, mi piace. Perché comunque a me piace stare in città, io questo lo ammetto, è una cosa che mi piace molto. È comodo. Bisogna contarlo. Allora, fere, 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 grandezza per me è un 10. È perfetta, sì. Sai perché? Perché questa cosa io la apprezzo tantissimo. Abbiamo degli spazi enormi, ok? Belli ampi. Ma non abbiamo tante stanze inutili. Ci abbiamo due stanze che, appunto, è una la camera da letto dove stai e una uno studio. Certo, se vogliamo essere precisi, manca una stanza per gli ospiti, che comunque è un difetino. E manca comunque qua una terrazza, poteva essere bella più grande, c'è da dirlo. Una terrazzona qui, secondo me, ci stava. Avrei preferito un bel terrazzo anch'io. E per questo motivo, secondo me, si merita un otto e mezzo. Sì. Ti piace? Sì, 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 sì. Perché un otto no, perché comunque gli spazi sono davvero belli e spaziosi. Sì, no, allora, però devo dire anche che la grandezza, ad esempio, se vivi da solo in due, è perfetta. Perché non hai bisogno di stanze in più. Dai, la stanza degli ospiti... Però del balcone, del giardino, per me, secondo me, quelli ci stanno alla grande. Eh, però il giardino dobbiamo vedere fuori se c'è, perché c'è tutto all'esterno. Non c'è, comunque un otto e mezzo. E adesso ci rimangono gli esterni e il costo, ok? Sul costo, purtroppo, abbiamo il dubbio su quanto costi l'altro appartamento. È comprato tu, non lo so io. Perché non ci ricordiamo quale di preciso è, quindi dobbiamo aspettare per valutarlo. Però vediamo un attimino gli esterni. Anche notte, che secondo me è il momento migliore per valutare una casa, perché ci sono le luci accese. E vediamo un po'. Allora, da davanti, personalmente, non mi piace. Anche a me non piace. Sei d'accordo? Sì, da fuori non mi piace. Non sa di villetta tipo storica, bella. Sai cos'è che non mi piace? Io preferisco quelle villette che stanno un po' verso l'interno, ovvero che hanno un cancello, un cortile all'ingresso e poi la casa rimane un po' più su. Invece questa sta proprio sulla strada. E tu immaginati il rumore che fanno le macchine. Cioè, qui nelle finestre, tu ci dormi. E pensa quanto danno fastidio le macchine. Quindi io personalmente l'ingresso così non mi piace proprio. Allora, ho sfruttato tutto un balconcino per arrivare dietro, ok? Ok. E praticamente noi non abbiamo un giardino, però abbiamo una piscina. Per me questo è un sei e mezzo da fuori. Sì. Sei d'accordo? Cioè, vero. Non mi piace l'ingresso e non mi piace questa cosa che devi raggiungere la piscina solo dall'esterno. C'è una porticina e me la potevi mettere dentro casa. Dai, una almeno. No, sì, ma poi mi hai fatto notare appunto anche questa cosa di stare attaccata alla strada. Ok, stare sulla montagna. Però siamo sulla montagna e non abbiamo niente la vista perfetta. Quindi... Passerei, capito, le giornate fuori dalla finestra a insultare i veicoli. Io odio i rumori, odio i rumori della strada. Il recap dei voti. Comodità sette e mezzo. Arredamenti interni nove. Esterni sei e mezzo. Vista sette. E grandezza otto e mezzo. Ha preso dei bei voti, ma secondo me è battibile. Per il costo vedremo dopo. Adesso direi di andare nel nostro bellissimo appartamento in quel super palazzo. E valutiamo se riesce a battere questa villa. E per ora te l'ho detto, secondo me non ha dei voti troppo alti la villa, quindi è fattibile. L'appartamento non l'abbiamo comprato perché secondo me c'è una cosa subito degna di notte e molto importante. Ovvero che possiamo decidere com'è arredato dentro questo appartamento. Questo è bello, questo è bello. Quindi, secondo me già qua bisogna valutarlo nella valutazione finale. E quindi ho deciso di farvelo vedere. Scegli l'arredamento perfetto, insomma. Dobbiamo scegliere l'arredamento. Marino non mi piace. No. Regale, terribile. Seducente mi piace molto. Questo è bello, questo è bello. Monocromatico no. Elegante bellissimo. Bello, bello, bello. Vivace e carino però non vale la pena. Troppo, troppo, preferisco colore un po' più sopra. Malinconico molto bello. Forse è bello, è bello. E anche il moderno è bello. Io sono indecisa tra il malinconico, l'elegante e il seducente. Io voglio il malinconico, Fere. Ok. Sei malinconico oggi, va bene. Allora devo vendere una proprietà. No, no, non è vero. Quota. Non è vero, scusa, scusa, scusa. Stavi pensando di dover vendere la casa di qualito bello. Stavo per piangere, non l'avrei mai fatto. Quella ce l'abbiamo ancora. Non l'avrei mai fatto. Ok, Fere, è il momento di entrare. Ah, però visto che ci siamo, facciamo una valutazione degli esterni. Ah, giusto, certo. Visto, siamo fuori. Allora, personalmente. Palazzo è strabello. Il palazzo si vede da tutta la città che è una figata. Sì, cioè non c'è molto da dire. E tu vivi lì, c'è il palazzo. Potete vedere a tutte le parti, io sono là. Però non è giardino, che per me è una cosa che comunque è un bel difetto. E non siamo proprio in centro città. Ok, però. Centro città sarà su comodità. No, dai, però aspetta, il centro è molto vicino, dai. Allora, sì, vabbè, però tanto questo l'ho all'esterno. A livello estetico per me è un 8. Non è troppo vicino a 10. Cioè, ho visto palazzi più belli anche nella vita reale, figurati. No, certo, certo. Secondo me non è fantastico. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ok, quindi diamo un bel 8. Ok, possiamo entrare, Fere, andiamo, 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 divertiamoci. Prima di partire possiamo finalmente dare il voto sul costo. Ha vinto la villa, dato che la villa costa 800.000 dollari, mentre questo appartamento ne costa un milione e uno. Quindi quella sfida lì se l'è vinta la villa. Adesso direi di valutare subito gli interni perché sembra fantastico. Io non ho niente da dire, Steph, è bellissimo. Oh, mamma mia. È proprio bello. Allora, valutiamo cucina. Mi piace tantissimo sia il tavolo che il tappeto. I colori della cucina sono davvero, davvero carini. Belli, belli, belli. E secondo me ha quello che serve per la cucina. Nel senso non è troppo, né troppo poco. Mi piace un sacco. Ma soprattutto il soggiorno. Oh, vabbè. Con questa vista qua. Questa è più bella. Anche perché siamo, penso, all'ultimo piano, se non sbaglio. Sì, è un attico. È un attico. Quindi totalmente, cioè, vedi, fino alla fine della città. Oh, conta che ora poi... Non perderti sulla vista, Ferre. No, aspetta, che è pure nuvoloso. Pensa quando si vede bene. Perché la vista la dobbiamo valutare dopo. Allora, guarda anche queste scale quanto sono bellissime. Con il neon, tipo quelle di Tower Unite, perché è bianco. Però c'è il neon, è bellissimo. No, vabbè, Steph. C'è. Ma è enorme. È tutto aperto così. Oh, vabbè, che bello. Cioè, è grande quanto questa stanza dove noi registriamo, per intenderci. No, in realtà, registriamo in una possibile cabina armadio. Però vabbè. No, vabbè, guarda anche la vasca qui. No, vabbè, bello. Ok, ok. Io penso di sapere il mio voto. Dieci. Dieci. No, ma poi dieci, perché anche se non ti piace questo arredamento in particolare... Lo puoi scegliere. Lo puoi scegliere, quindi c'è tra quelli... E non cambia il prezzo, eh. Non cambia il prezzo. Esatto, esatto. Quindi questa è una cosa stra-importante. E comunque, contando che c'erano diversi stili, Lì, secondo me, ogni persona si può scegliere l'arredamento perfetto in base ai propri gusti. Si mette male per la villa, Fede, perché adesso dobbiamo dare il voto alla vista. Sai, credo che non ci siano molti dubbi sul voto per la vista, vero? Eh, eh, mi gioco. Allora, dai. No, guarda ora che fa giorno, che bello! Mettiamo un altro dieci. Vedi tutto! No, è stra-bello, stra-bello. Certo, certo, è vero, ovvio. Siamo in altissimo, quindi me l'aspettavo alla grande. Ok, a questo punto io vorrei valutare insieme a te la grandezza. Perché c'è da dire che la cucina non è proprio gigante, ok? La camera da letto invece per me lo è, però andiamo a vedere anche l'ufficetto qui. No, è uguale, è uguale l'ufficetto. Sì, dai. Allora, ti dico, la grandezza a me è un po' deluso. Perché sì, ha un bel salone grande, però tipo la camera da letto è un po' piccolina, se ci pensi. Perché la cabina armadio e il bagno prendono tanto spazio, quindi non lo so, c'è per un milione e cento io mi aspetterei un appartamento un po' più grande. Sai, nell'attico non abbiamo il terrazzo, capito? Anche quello un po' l'ho valuto. Abbiamo giusto qua un balconcino con un tavolino che è carino, non mi dispiace. Eh, ma di solito Steph e gli Attici hanno quei terrazzi enormi. Però poi non è neanche accessibile, ti faccio notare. Eh, esatto. Dai, allora, sulla grandezza gli darei un otto. Sì. O un sette e mezzo. No, sette e mezzo, dai. Sette e mezzo. Non è grande, però, cioè, non lo so, mi aspettavo qualcosa di più, ti dico la verità. Sì, non può deludere del tutto perché comunque ha tutto quello che ti serve. Certo, certo. Però non è neanche perfetto in quello. A questo punto, Fere, ci manca la comodità. Ok. Perché è l'ultima cosa che manca da valutare. E secondo me, allora, la posizione è un po' meglio rispetto all'altra. No, è quasi in centro, dai. Rispetto alla villa è un pochettino meglio. È tutto vicino. Però devo dire che fare tutti quei piani, sai, con l'ascensore, due ore di ascensore. Non ti piace l'ascensore? A me non piace l'ascensore. Cioè, io lo farei a piedi. È tipo 40 piani a piedi. Eh, no, non è l'ideale. Però non posso valutarlo perché... No, non lo puoi valutare perché le persone normali, che non sono come te, si prenderebbero l'ascensore. Dai, alla fine saranno... Lo so. Boh, un minutino di ascensore, dai. No, vanno anche veloci. Ormai fanno magari anche 15 secondi. Esatto, esatto. Dai, allora, per me è un otto e mezzo... Sì, per un otto o per un otto e mezzo fare? Sono molto indeciso. Otto, dai, otto, 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 otto. Ok, ok, ok. Devo dire che rispetto alla sfida del yacht contro aereo, questa è stata molto più bilanciata. Sì, sì. Perché nessuna delle due era una perfezione assoluta, ma nessuna delle due era una mezza schifezza. Ma vabbè, sono belle, capito? Diciamo che questa sfida è già molto più interessante. Secondo me anche nel sondaggio i consolini saranno decisamente più divisi. Molto indeciso. Allora, la nostra valutazione finale credo che faccia vincere questo appartamento qui, quindi il palazzo. Però non di troppo. Abbiamo il costo, vince la villa. Nella comodità vince di mezzo punto l'appartamento. Nell'arredamento vince di un punto l'appartamento. Gli esterni vince di un punto e mezzo questo appartamento qua. La vista vince di tre punti, ed è la cosa più grossa e pesante. E nella grandezza, invece, perde di un punto contro la villa, che era un pochettino più grande. Comunque, guarda, ti dico anche, se avessi avuto un bel cortile e una piscina un po' più accessibile, io probabilmente avrei preferito la villa in generale. Perché mi piacciono più le ville degli appartamenti. Allora, sì. Per gusto personale. Secondo me ci sono diverse ville in questa zona qua, della zona tipo della scuola, dove abbiamo fatto il nascondino, eccetera, eccetera, che sono superiori a questo appartamento qui. Eh, però noi abbiamo preso, aspetta, la villa più costosa e l'appartamento più costoso. Abbiamo messo a confronto le due cose più costose, certo, certo. E alla pari, secondo me, l'appartamento è leggermente migliore. Non di troppo, ma leggermente migliore. Fateci sapere, ovviamente, anche voi, con sondaggio e commenti quale preferite. E ci fermiamo così. Per ragazzi, se vi è riuscito di sentire tutto, lasciateci un bel like. E sempre una volta che avete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao!